numero 5 per iduo 406 è compatta ed ergonomica è dotata di un poggiapolsi rimovibile che permette di regolare l'angolo di digitazione per un comfort illimitato ha anche tutti i tasti di scelta rapida necessari come il tasto fn per i media la navigazione e la posta elettronica tastiera compatta in un unico pezzo i tasti sono separati in due gruppi per la mano sinistra e destra per ridurre la flessione dei polsi verso l'esterno durante la digitazione massimizza il tuo comfort con la combinazione di tastiera e mouse se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 la peribord 512 della società tedesca perix è una tastiera ergonomica disponibile in bianco o nero set di tasti separati e curve 3d appositamente progettate per adattarsi alla postura naturale delle mani rendono i gesti di digitazione più fluidi e facili la tastiera a membrana con tasti a lunga corsa offre un'esperienza di digitazione fluida riducendo al minimo gli errori di digitazione con le sue grandi dimensioni e il tastierino numerico integrato questa tastiera è ideale per i professionisti o per coloro che hanno alti volumi di elaborazione di testi da gestire trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 digita in modo più naturale con la ergo k860 una tastiera ergonomica avanzata che promuove una postura di digitazione più rilassata riduce la flessione del polso del 25 per cento e fornisce il 54 per cento di supporto in più la tastiera curva in due pezzi riduce la tensione muscolare su polsi e avambracci mentre il poggiapolsi imbottito offre comfort e una posizione ergonomica ottimale il poggiapolsi regolabile mantiene i vostri polsi in una postura naturale sia che siate seduti o in piedi sarete in grado di digitare con fiducia sulle battute perfette che sono progettate per una precisione e una fluidità ottimali il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 2 la scalp ergonomic desktop è stata progettata secondo principi ergonomici avanzati dotata di un poggiapolsi in gomma presenta una tastiera divisa che permette ai polsi e agli avambracci di rimanere in una posizione rilassata la forma cupola della tastiera aiuta a ridurre e correggere la pronazione del polso che può causare dolore e mobilità limitata la disposizione dei tasti ad arco segue la curva dei tuoi polpastrelli per una digitazione ancora più naturale la forma del mouse è stata progettata per ottimizzare il comfort del polso in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 1 la tastiera ergonomica di microsoft surface ha un poggiapolsi in schiuma rivestito in alcantara un materiale nobile durevole e decisamente di alta gamma prodotto in italia il suo design tridimensionale e curvo garantisce ore di scrittura senza il minimo dolore alle mani o ai polsi il suono dei tasti la loro consistenza e la loro resistenza sono stati ridisegnati per un maggiore comfort e precisione durante la digitazione il feedback ottimizzato e la resistenza dei tasti evitano la pressione accidentale e permettono di lavorare con totale fluidità se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione